Incollare l'asta trasparente con caps ad un disco di cartone e coprire il disco con una margherita in TNT decorativa. Realizzare una quartina di palloncini a tema e fissarla alla base della struttura. Creare una seconda quartina più piccola e fissarla al di sopra della precedente. Inserire un D4 rosso piegato a metà all'interno di un GL13 rosso. Gonfiare il palloncino esterno e successivamente quello interno. Annodare il D4. Sgonfiare il palloncino esterno modellandolo per dargli la forma di un cuore. Tagliare la coda del GL13 e far scorrere il cuore lungo l'asta trasparente. Realizzare altri due cuori più piccoli. Inserire anche questi due cuori lungo l'asta trasparente. Inserire all'interno dell'asta trasparente un'asta con caps più piccola. Inserire il palloncino a tema nel palloncino trasparente e gonfiarli entrambi. Fissare i palloncini alla caps in cima alla scultura. Inserire tra i vari elementi del tool decorativo bianco. Ecco la nostra scultura.